Siamo con la senatrice Simona Vicari, senatrice uscente e candidata al Senato in Sicilia nel PDL. Senatrice, dopo una flessione alle amministrative e alle regioni del suo partito, oggi sembra in netta rimonta. Cosa è successo prima e cosa sta accadendo oggi? Prima c'era stata una dimissione di Berlusconi da Premier, un passo indietro, un avanzamento di Alfano come segretario. Devo dire che probabilmente questo partito, essendo stato abituato ad avere un solo leader, un solo capo, non ha arretto l'indicazione che non venisse dal basso, quindi attraverso le primarie, di un proprio segretario. Probabilmente anche per il futuro sarà così, mi riferisco che se dopo Berlusconi il partito continua, certamente l'indicazione di un solo leader non può che non essere scelta attraverso le primarie. Da quando Berlusconi ritorna e scende di nuovo in campo, recupera almeno in parte la fiducia degli elettori del centro-destra che nel frattempo si erano allontanati. Noi abbiamo preso percentuali bassissime alle amministrative, andando anche divisi all'interno del centro-destra alla regione Sicilia. Siamo stati divisi tra Grande Sud e PDL e abbiamo anche lì perso. Questa volta non soltanto c'è il presidente Berlusconi in prima persona, ma la destra si presenta unita, quindi le possibilità di vittoria ci sono tutte. Perciò lei comunque implicitamente ribadisce la necessità per qualunque schieramento, nel vostro caso specifico di Berlusconi, di un leader forte e carismatico, al di là che venga indicato dal basso o meno. Il tema centrale però potrebbe anche essere un altro. Qualunque sia poi il risultato finale, non si paventa un risultato acclaratamente da un lato o dall'altro. Secondo lei il bipolarismo in Italia è finito o no? Se è mai esistito? Il bipolarismo ha iniziato ad esistere e è durato due o tre anni al massimo. E devo dire che ogni epoca ha la sua storia e la sua storia politica elettorale. Mi spiego un po' meglio. Quando è nato il bipolarismo, le condizioni che in Italia, così come in molti paesi europei, ci fossero i progressisti, i conservatori, i popolari, i riformisti, eravamo assolutamente pronti e maturi. La crisi che ha avviluppato tutto il pianeta, in particolar modo l'Europa e i paesi più deboli di essa, come tipologia di crisi, secondo il mio punto di vista, non consente l'utilizzo del bipolarismo come strumento per risolvere i gravi problemi. Il nostro è un paese dove l'opposizione non accetta mai di essere opposizione, diversamente dall'America che il giorno dopo che il candidato perde va a fare opposizione, rispetta, anche aiutandolo laddove serve, chi vince per i prossimi quattro anni. Nel nostro paese non è così. Chi perde non accetta mai di perdere e dall'indomani continua a fare opposizione facendo campagna elettorale. Nel caso specifico, essendoci un momento di grave crisi, che comunque durerà diversi anni, ritengo che il bipolarismo non sia sufficiente a risolvere queste problematiche di grandi riforme strutturali che il nostro paese, abbastanza vecchio, ha di bisogno. In un periodo in cui le cose si è più in discesa, diciamo che il bipolarismo consente una gestione di un'attività che è iniziata prima, ma adesso è un periodo in cui si deve ricostruire il paese Italia, rifondare uno Stato e allora lì bisogna essere più numerosi possibili e dare il proprio apporto. È vero che in queste elezioni probabilmente non si avrà una maggioranza schiacciante, ma perché il sistema elettorale tra elezioni di Camera e Senato è differente. Alla Camera basta un voto in più rispetto a un'altra coalizione per avere un premio di maggioranza assoluto, perché è nazionale, al Senato no, è diviso sulle singole regioni. Quindi ci possono essere regioni più di centrodestra e regioni più di centrosinistra. Questo determina un livellamento dei numeri maggiori rispetto alla Camera. Se è alla Camera la maggioranza comunque ha 100-150 voti di distacco, al Senato, così come nel 2006 con il governo Prodi, la maggioranza può anche essere soltanto di due, tre, quattro persone. A quel punto è chiaro che non si può governare e a quel punto è evidente che devi cercare una larga coalizione tra le forze più omogenee possibili. Cosa si può avverare da noi? Nel centrosinistra, dovesse vincere il centrosinistra, alla Camera abbiamo detto che non fa gioco, andiamo al Senato. Ma il centrosinistra, se tu lo guardi così in maniera statica, ha già dei problemi al suo interno. Vendola è contrario per esempio alla modifica che ha fatto il governo Monti, dove c'era dentro il PD e l'Udc sull'articolo 18, ha fatto il referendum per ripristinarlo come era prima e invece l'Udc o il PD che hanno votato quella riforma vuole mantenerlo così. Voglio dire che di tutta evidenza che nel centrosinistra Casini e Vendola non possono coesistere. Quali scelte si dovranno fare? O il PD se dovesse vincere molla Casini e va verso Selle e verso Ingroia, quindi tutto a sinistra, o il PD se dovesse vincere molla Selle e va verso il centro prendendo l'Udc e quindi Monti. Se invece dovesse vincere il centrodestra alla Camera vale lo stesso principio, al Senato il dialogo con le forze di centro, cioè il centrodestra rispetto al centrosinistra ha una uniformità ideologica e di pensiero tra i suoi componenti assoluta. Non abbiamo noi diversità come le può avere il PD da Selle, da Vendola che vuole allearsi con Casini. Da noi c'è un'omogeneità maggiore. A quel punto probabilmente se ci fosse una maggioranza risicata e dovendo fare delle grandi riforme ti rivolgi ai partiti di centro. Poi noi forse lo pensavamo prima ma da quando il Presidente Monti da Senatore a Vito ha scelto di candidarsi una sua possibilità di governo tecnico che possa ricondurre il Paese Italia a una situazione più serena da un punto di vista economico e non ci credo più. Non ci credo perché lui ha scelto di fare altro nella vita e non ci credo più perché le soluzioni che questo governo ha adottato da tecnico sono state veramente deleterie e soprattutto a servizio di alcuni Paesi europei come la Germania e quindi ha soggettato la nostra politica anche economica agli interessi europei di grandi banche che fanno capo principalmente alla Germania. E' chiaro che l'argomento ha una sua complessità però volendo cavalcare la sua filologia dialettica tempi che cambiano politica che cambia. Lei qual è il suo giudizio su fenomeni partecipativi come Grillo o come Ingroia? È antipolitica o è nuova partecipazione democratica? Grillo è una cosa differente da Ingroia perché Grillo raccoglie dentro di sé persone che esperienza politica non ne hanno puoi trovare un professionista ma puoi trovare anche un semplice ragazzo a destra a casa e comunque persone accomunate e lo dimostra anche dal target di età delle persone che scelgono Grillo accomunate da un utilizzo abbastanza forte del web e della rete. E io so, come tanti di noi sappiamo, che spesso sulla rete il dialogo, il mondo che si crea, non è che vale soltanto per i ragazzi quando giocano con i videogames, valgono anche per gli adulti che quando vanno sulla rete o scrivono determinate cose lo fanno perché hanno un computer davanti, lo fanno perché non hanno il tuo interlocutore davanti, la realtà è un'altra. Voglio dire, il mondo virtuale che seleziona una classe politica che sta attorno a Grillo è un mondo che non ha radici, è un grande mondo, è una grande piattaforma che è assolutamente fluttuante, non ha un radicamento né ideologico né legato alla realtà e quindi a questo tipo di situazioni do una vita abbastanza breve perché sono più delle meteore ma non c'è dubbio che assorbono un'esigenza di cambiamento dal punto di vista della società. La loro presenza la vedo assolutamente positiva perché laddove non ci hanno degli atteggiamenti demagogici quindi alcune cose che propongono il movimento di Grillo possono essere condivise, accettate, poi devono essere plasmate nella realtà perché una cosa è dirle, una cosa è farle, una cosa è dirle attraverso il web quando sei arrabbiato, una cosa è la vita è concreta, è reale. Non è sufficiente avere questa capacità di sfogo nel web per risolvere realmente i problemi della gente. Per quanto riguarda Ingroia è un'altra storia, per quanto riguarda Ingroia è chi fa politica insieme a lui a livello nazionale, sono un po' gli unti del Signore, sono alcuni magistrati che ritengono di essere gli unici depositari della verità, della correttezza, dell'antimafia, della trasparenza in questa terra e in maniera molto ma molto scorretta utilizzano e hanno utilizzato il loro ruolo per scendere e fare politica. Ritengo che se io ho indagato su un territorio e conosco tante situazioni su quella regione, sono assolutamente, lo dice anche la legge, sono assolutamente incompatibili a svolgere un ruolo politico in quel territorio perché è chiaro che alcune informazioni le posso utilizzare in maniera distorta e la giustizia è un'altra cosa, il vero magistrato è quello che fa il magistrato stando e avendo una vita assolutamente riservata e sopra le parti. Qui si è fatto un uso politico della magistratura, appunto da Ingroia, da De Magistris, con una violenza è un utilizzo anche della conoscenza di situazioni di alcuni politici o di alcuni partiti politici che vengono fatti fuori o infangati esclusivamente da magistrati politicizzati. Tanti cittadini vorrebbero che invece la giustizia fosse la giustizia rispetto alla politica. Purtroppo la politica è mancata negli ultimi anni e quindi in una logica di compensazione dai tre poteri dello Stato la magistratura è andata un po' più su e la politica è andata un po' più giù. Senti, c'è una battuta per chiudere. Se voi, e noi ve lo auguriamo come lo facciamo con tutti, doveste vincere le elezioni, chi sarà il vostro candidato premier? Ma lì sarà verificato anche con le altre forze politiche dove si vince e come si vince. Ma il candidato naturale per quello che mi riguarda non c'è dubbio che è il Presidente Berlusconi. So che Berlusconi invece si è fatto un passo indietro, ritiene di non doverlo fare. Noi abbiamo dei grandissimi persone, guarda caso sono anche siciliane, che hanno delle visibilità nazionali così importanti che sono assolutamente pronte. Se io devo guardare soltanto al PDL e non alle altre forze che sono alleate, io guardo per esempio persone come Alfano, sono assolutamente pronte e utili a guidare il nostro paese, come Maurizio Lupi, come il Presidente Schifani. Noi abbiamo in Sicilia, abbiamo espresso il Presidente del Senato che all'unisono ha svolto il ruolo in maniera eccellente e super partes e ritengo che anche la fiducia di gradimento nel nostro partito verso lui e verso questi soggetti sia abbastanza ampia da poterli lanciare come candidati premier. Una cosa soltanto importante è che chi va a sedersi e a comprendere di traghettare questa fase lo deve fare esclusivamente con la consapevolezza di cancellare un modo di aver fatto politica, concepire culturalmente questo paese, prendere foglio bianco e riscrivere tutto da capo. Il nostro è un paese vecchio, è un paese obsoleto, è un paese dove si pensa ancora che le autorizzazioni sono un dovere e non un diritto, è un paese dove l'impresa, l'imprenditoria privata è concepita come un fastidio e non come una grande opportunità, che la meritocrazia si pronuncia soltanto a parole ma poi di fatto non si fa nulla per mandarlo avanti, è un paese totalmente da riescrivere. Allora chi va a svolgere questo ruolo lo deve fare con grande onestà, avendo questi punti chiari, ben in testa e ben visibili nella sua azione quotidiana. Il pensare di navigare, ora vediamo, ora facciamo, non è più possibile, non lo consentiremo, non lo consentirò e penso che neanche i cittadini lo vogliono più. Grazie. A lei.